Tutto pronto! Sono pronta! Ciao! È da tanto che volevo farlo! Vuoi sposarmi, cara Pommy? Oh, Jax! Ma certo! Sono così felice! Oh, perfetto! Guarda! Non avrei mai immaginato di diventare una sposa! Wow! Evviva! E adesso? Bambini, volete andare al Digital Circus? Wow! Questa è una novità! Oh, sì! Ragazzi, venite qui in fretta! Wow! Allora, siate reali! Wow! Proprio come nel gioco! Ciao, piccola! Vuoi vedere un trucco? Troom trick! Wow! Che figata! Possiamo diventare come te? Certo! Dovete solo completare dei compiti! Cominciamo! Se lo volete davvero, ok! Il primo compito è il trucco! Ho un'idea! Vi farò vedere un trucco! Aspettate! Cominciamo! Abbiamo bisogno di un po' di trucco! Troom trick! Ha funzionato! Oh, guardate! Dobbiamo bucare quei palloncini! Oh, puoi contare su di me! Forse possiamo trafiggerli con questo! Ho un'idea migliore! Pronti per la difesa! Oh! Meno male che non mi ha colpito! Ho un'idea! Solo un paio di mosse e il cappello è pronto! Piccola, questo è per te! Porti! Un altro compito è completato! Andiamo, cara! Stanno andando alla grande! Dobbiamo raggiungerli! Il prossimo passo sono le orecchie! Credo di sapere dove trovarle! Ora ti mostrerò un po' di magia! Troom trick! Guarda qua! Ehi, ribetti mi a posto! Questo è un pessimo esempio! Oh, papà! Ho un'idea! Prova questo! Oh, forte! Troom trick! Wow, che cos'è? Sistemalo subito! Baby troll! Troom trick! Ehi, mi sta bene! Sei divertente! Senti chi parla! Ok, ora sistemiamo tutto! Wow, ce l'hai fatta! Fico! Le orecchie sono pronte! Stiamo andando alla grande! Continuiamo! Oh, aspetta! Torno subito! Ehi, ciao, Pammy! Oh, ciao, caro! Vuoi unirti? Oh, con piacere! Ma dove? Oh! Oh, arrivo! Caro, ti sei fatto male? Oh! Troom trick! Ed ecco la merenda! Alzati, caro! Ci stanno aspettando! Signore e signori! Le nostre stelle! Jax e Pammy! E guardate che cosa qui! Voilà! Che ve ne pare, ragazzi? Bene, vi sono grata! Puntate alla borsa! Uh! Siete i migliori! Bis! Ottimo! Possiamo andare! Oh, quanto pesa! Uh! Ce l'ho quasi fatta! Sono a casa! Ciao, mamma! Guarda che ho disegnato! Non sono venuta a mani vuote! Guarda quanta roba! Scegli un giocattolo qualsiasi! Che bello! Grazie, mamma! Non c'è di che, cara! Wow! Bellissimo! Sei la mia piccola artista! Oh, mi sono dimenticata della gonna! Aspetta, prova questo! Strano, ma può andare! Ok, aggiungiamo un po' di colore! Sei pronta? Arriva la magia! Troom trick! Wow! È proprio come nel disegno! Sono felice che ti piaccia! Posso provare anch'io la magia? Certo, tesoro! Ecco a te! Troom trick! Wow! Hai talento! Ecco, prendi questi! Gnam! Adoro le caramelle! Uh, tesoro! Andiamo! Allora, cosa abbiamo qui? Potrebbe tornare utile! Vediamo che c'è qui dentro! Stai lontano da me, fantasma! Che faccia! Ehi, ha un martello! No, solo la tua immaginazione! Controlliamo la lista! Ora ci serve un maglione! Dove possiamo trovarne uno? Dammi quel sacco! Ti mostro un trucco! Voilà! Ecco la stoppa! Uh, niente male! E ora le forbici! Tieniti forte, Michael! Non mi piace! Pochi tagli ed è tutto pronto! Solo un po' di pazienza! Che ne pensi? Oh, al cento per cento fantastico! Troom trick! Mi sta bene! Caro, dobbiamo scappare! Pommi, che succede? Ci stanno aspettando sul palco! Non possiamo fare tardi! Ed ecco Kane! Amo il mio lavoro! Non sapevo avesse un altro lavoro! Chi è là? Non avreste dovuto vedermi! Troom trick! Wow! Così divertente! Oh, cos'è quello? Sembra un premio! Vediamo che c'è lì dentro! Oh, no! Se volete un premio, dovete giocare! Spero che voi siete pronti a rischiare! Oh, oh! Ed ecco il martello! Provate! Troom trick! Ah, non lo colpirai! Lo vedremo! Prendi questo! Facile! Vuoi provare? Con piacere! Troom trick! Uh-uh! Un altro punto! Ne manca solo uno! Oh! Devo fermarli! Ho un piano! Questo li fermerà! Non ci riuscirete! Ah-ah-ah! Troom trick! Ehi! Che è successo al martello? Si è scompiato! Siamo nei guai! Ragazzi, per favore aiutateci! Mettete un like a questo video! Così potremo vincere! Contiamo su di voi! Siete la nostra speranza! Ragazzi, ancora un po'! Forza! Dai, l'ho preso! Wow! Spero di farcela! Così divertente! Ok, ora tocca a me! Oh, è davvero pesante! Troom trick! Sì, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo preso il premio! Finalmente! Vediamo che c'è qui dentro! Scopriamolo! Tesoro, guarda cosa ho qui! Ciao, mamma! Guarda, sono un pirata! Carina! Aprilo! Fantastico! È tutto il materiale per il fa-da-te! Ti aiuto io! Per prima cosa stendiamo il Fomirum! E ora, i bordi! Troom trick! Ora prendiamo il filo e le perline! Un po' di magia e il gioco è sfatto! Forte! I braccialetti sono pronti! Tesoro, provali! Wow, mamma! Sono incredibili! Vuoi vedere il trucco con le monete? Certo! Troom trick! La moneta è sparita! Wow, fico! Posso? Certo! Guarda qua! Troom trick! Che te ne pare? Wow, sei una vera maestra! Ho fame! Wow! Che c'è che non vai in papà? Stai bene? Svegliati! Figlio, tutto ok? Ho un po' di fame! Dov'è il cibo? Oh, ci penso io! Guarda cosa ho qui! Ti piace? Assolutamente! Grazie! Oh, la tua tuta è bella! Posso averne una uguale? Hmm, fammi pensare! Credo di poterti aiutare! Ecco il mio camerino magico! Sembra sospetto, ma va bene! Entra pure non essere timido! E ora, Troom trick! Troom trick! Questa non è la tuta giusta! Ora sembro un prigioniero più che altro! Non preoccuparti! Userò la bacchetta! Troom trick! Wow, ha funzionato! Mi piace! Grazie, papà! Guarda nella tua tasca! Wow, cos'è? Pico è infinito! Oh, sono un po' confuso! Aiutami! Ops, rimediamo! C'è stata un po' di confusione, ecco qua! Wow, mi gira la testa! Sei così divertente! E adesso che facciamo? Ho un'idea! Ma certo! Molto meglio! Mi serve anche questo! E ancora un po' perfetto! Ora possiamo iniziare! Serve solo un cartoncino e un pennarello! Disegniamo una carota! Bellissimo! E ora ritagliamo il disegno! Attenzione a non superare i bordi! Perfetto! Lo stencil è pronto! Scegliamo i colori! Troom trick! La carota è pronta! Aggiungiamo qualche dettaglio! Sembra carina, no? Facciamola vedere al piccolo! Questa è per te! Wow, che bella cravatta! Grazie, papà! Non c'è di che piccolo! Abbiamo portato a termine un altro compito! Ora possiamo rilassarci! Ciao, piccola! Oh, vuoi pop corn? Oh, mi sono sporcata! Scusa, mamma! Non preoccuparti, tesoro! Tanto dobbiamo cambiarla! A proposito, guarda! C'è un altro vestito nella lista! Facciamolo! Troom trick! Ed ecco la stoffa! Dobbiamo solo cucirlo! Spero di aver scelto la taglia giusta! Solo un po' di più! Ops! Mi sa che ho sbagliato qualcosa! Proviamolo! Non vedo niente! Chi ha spento le luci? Ora sono un fantasma allegro! Sei così divertente! Adorabile! Sistemiamolo! Sarà molto più facile se usiamo il cappello! E... Troom trick! Che ne dici? Guarda che bello! Questo è per te! Indossalo! Wow, mamma! Ora va molto meglio! Grazie! E ora tocca a me! Tesoro! È meraviglioso! Grazie per il vestito! Stai benissimo! Battiamo il cinque! Sì! Aspetta un attimo! Ho un'esibizione! Prendi questo! Fai come faccio io! Dai! Non è difficile! Wow! Posso farcela! Ora ci provo! Troom trick! Oh no! Sembra che abbia esagerato! Oh, Kane! Salve! Dove sta andando? Pammi, mia cara! Il pubblico aspetta! Arrivo, Kane! Wow! Credo che stia funzionando! Sei! Oh, che c'è che non va? Ciao! Sono venuto per occuparmi di voi! Kane! Voi sarete le prossime! Ma dov'è finita? Qualcuno ha visto la mia testa? Ho dimenticato dove l'ha lasciata! Dobbiamo nasconderci! Salviamoci! Che devo fare? Presa! Tu sarai la prima! Ehi! Non rovinarmi l'appetito con le tue urla! Lasciami in pace, per favore! Di cosa hai paura? Presto i tuoi amici ti raggiungeranno! Credimi, non dimenticherai mai come ci siamo conosciuti! E ora mi prendo un souvenir! O forse ti toglierò tutti i dentini! Oh! Ha un'intera collezione! Devo andarmene da qui! E ora... Troom trick! Non mi arrenderò così facilmente! Ok! Ora sono libera! Wow! Che bambino carino! Tu ti siederai al mio posto! Ok! E ti darò un cappellino per questo! Ehi capo! Prendi questo! Non ricordo di avere un assistente! Bene, dammelo! Questa ti terrà un po' occupata durante l'attesa, Pommy! Oh! Non ne hai idea! Cos'altro posso fare con lei? E che ne dici di una maschera? Oh! È una buona idea! Proviamo! Oh! Non le sta! Forse è così? Oh! Sei così divertente! Oh! Il mio travestimento! Pensavi davvero di potermi prendere in giro? Troom trick! Oh! Ho fame! Che incubo! Non potrai scappare! Ti raggiungerò! È terribile! Forse riuscirò ad uscire? Cosa? Non da questa parte! Non c'è nessun posto in cui puoi nasconderti! Sarai la mia prigioniera! Uh-uh! Ma che sta succedendo? Non voglio saperlo! Uh-uh! Non possiamo salvare la bambina! Se ne occuperà Kane! Assembiamone uno nuovo! Ottima idea! Farò un bel vestito! Beh, sembra abbastanza simile! Che ne dici? Non lo so! Non ha funzionato! Allora che facciamo? Ci serve un po' di magia! Troom trick! Oh! Si è rotta! Chi sta accettando i rifiuti? Aiuterete a pulire questo casino! Uh! Mancato! E questo che cos'è? Chi ce l'ha messo qui? No! Così lo romperete! Dobbiamo rimetterlo insieme! Non ci riesco! Ehi! Ma che volete? Abbiamo fame! Devo scappare! Mi dispiace, Pommy! Oh no! È di nuovo lui! Devo riprendermi! Non sono mai stata qui! Visitatori! Interessante! Le dimostrerò la mia ospitalità! Freddy! Per favore, calpati! Beccata! Lasciami in pace! È una trappola! Cosa? Di nuovo? Beh, no! Uh! Un millepiedi! Odio i millepiedi! Basta! Non avvicinarti mai più di soffiato! Sai quello che ti farò? Ecco, prendi questo! Uh-uh! Bene! Ora sembri più amichevole! Mi piaci! Che ne pensi? Sei carino! Uh! Aiuto! È scappata! Beh, non c'è problema! Le lascerò un dessert! E proverò la mia nuova arma! Devo controllare la bambina! Ehi, sei qui? Ehi! Uh! Che strano! È così stupido! Voliamo via! Troom trick! Wow! Ma che succede? Non riesco a tenerlo! Che c'è che non va in questo martello? Tocca a me! Ragazzi, aiutatemi a sollevare il martello! Ok, smettila! Sono questi i due i trucchetti! È ora di pagare le bollette! Un altro paio di like lo solleverò! Avanti! Ops! Devo andare! Ma non così! Così fa meglio! Andiamo a cercare i tuoi amici! Oh, l'ha trovata! Uh-uh-uh! Ti stai divertendo? Ok! Giochiamo un po'! È un incubo! Ha trasformato tutti in bambole! Aspetta un attimo! So come distrarlo! Gli orsi amano il miele, no? Ma non sanno assolutamente come aprirlo! Soprattutto se c'è della colla! Ok! Questo dovrebbe ritardarlo un po'! Uh-uh-uh! Prendilo! Che cos'è? Un regalo? Io adoro il miele! Uh-uh-uh! È così stretto! Ehi, apriti! Uah! È la mia occasione! Spero solo che non se ne accorga! Pommi! Vieni con me! Non aver paura, piccola! Ti salverò! Oh, davvero? Questa sì che è una sorpresa! Aspetta! Qualcuno mi ha mandato un SMS! Cosa? Girati! È ora di fare i conti! Attenzione! Pommi, dove sei? Qui non c'è nessuno! Wow! Un tesoro! Me lo merito! Mmm! Delizioso! Ancora un po'! Oh no! Povera Pommi! Freddy non può farle questo! Pam, pam! Cosa? Che sei? Cresci! Che ti ha fatto questo? Mia cara! Non li perdonerò mai! Sei stata tu? No! Sto solo cercando i miei amici! È colpa di Freddy! Ne ho abbastanza! Ora tu sarai una guardia! Sono stufa di tutto questo! Che ci devo fare? Questi novellini! Lascia che te lo faccia vedere! È calda! È calda! Potresti spiegarmi meglio? Potevo bruciarmi! Non ho tempo per questo! Che cattiveria! Ma dove è andato? Bene, 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 bene! Sono già stanco di inseguirli! Che c'è che non va? Non è un animatronics! Chiudiamo tutte le porte! È in fretta! Sta arrivando! Sono nei guai! Ma adesso che faccio? Ehi! Tira il dito! È strano, ma va bene! Beccato! Ti prego, non parlo! Non ti seguirò più! Lasciami in pace! È una pazza! Ce l'ho fatta a malapena! Una tv! Fantastico! Ora potrò rilassarmi! In fondo me lo merito! Oh! Troom trick! Lo adoro! Che altro c'è qui? Nuove cover! Che c'è di meglio? È rotto? O non ci sono canali? C'è qualcuno? Ehi! Che ci fai qui? Stai bene? Che incubo! Sembrava davvero un brutto sogno! Sto venendo a prenderti! No! Ne ho abbastanza! Puoi giocare a nascondino? Sfida accettata! Sfida accettata! Se ne è andata! Ha sbagliato strada! Questo posto sta diventando pericoloso! È come se tutti fossero impazziti! Spero che qui non ci sia nessuno! A quanto pare sono solo! Ehi, Freddy! Siamo venuti a prenderti! Non posso crederci! Due di loro! Non c'è nessun posto in cui scappare! Mi difenderò da solo! Ehi, dove l'hai presa? Non aver paura! Ho un reverse! Cosa? Non questo! Oh oh! La mia testa! Oh oh! Sfigato! Ora tocca a noi divertirci! Oh sì! Ma dobbiamo riportare in vita la bambina! Pesci che funzionerà! Troom trick! Forse ancora una volta! Avanti! Ok! C'è qualcosa che non va! Fammi provare! Ecco! No! 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 Ragata, aspetta! Guarda! Si tratta del laser! Ora sistemeremo tutto! Tutto qui! Io sono pronta! E tu? Sono pronta! Troom trick! Uh! Oh! Bambina, stai bene? Siamo così felici che tu sia qui! Che c'è che non va in freddi? È di nuovo lui! Perché mi guardate così? Ehi, facciamo pace! Possiamo avere altre caramelle? Pommi, mi sei mancata tanto! Cosa? Uh! Vattene! Smettila di inseguirmi! Prendi questo! Che cos'è? Uh! Dammi le caramelle! Uh! Non ho le caramelle! Uh! Bene! È arrivato il tuo momento! Uh! Uh! Con lei! Me ne vado! Non vi disturberò mai più! Che stai facendo? Vuoi un trucco? Vieni da me! Questo mi spaventa! Uh! È così calda! Non hai nessun posto in cui scappare! Fuori dai piedi! È chiusa a chiave! Non è possibile! Fatemi uscire! Che cos'è? Cammo? No! Uh! Non dobbiamo più preoccuparci di lui! Hai ragione! Me ne occuperò io! Ma dove è andato? Qui sembra tutto libero! Ma devo stare allerta! Pam pam! Uh! Tu che sei? Voglio farti la stessa domanda! La nuova ragazza! Non mi ricordo di te! Ma stiamo cercando nuovi dipendenti! Cosa? Se sei una guardia! Ecco il tuo cappello! Per favore vai a lavorare! Questo è il tuo posto di lavoro! E non andartene prima di domani mattina! Così potrò disegnare! Ora dobbiamo controllare le telecamere! Fantastico! Allora entrambi abbiamo qualcosa da fare! Che bello! Ehi! Smetti! La sono dei mostri! Non saranno la tua famiglia! Lo vedremo! Allora togliteli dalla testa! È chiaro? Oh no! Sono già qui! Chiudi tutte le porte in fretta! Ci è mancato poco! Li odio! Apri! Non li lascerò entrare! Ehi! Cos'è quello? Vieni con me! Qualcuno mi aiuti! Daddy! Se n'è andata o no? Vieni con noi! Almeno non hanno preso me! Dove la staranno portando? Che le staranno facendo? Possiamo parlare? Ok! Non possiamo lasciarla scappare! Per favore non farlo! Farò in fretta! Ferriscila! Cos'è quello? Che carino! Dammeli qua! Oh! Il puzzle è completo! Freddy! Teniamola! Davvero? Oh! Credo che a Freddy non piaccia questa idea! Benvenuta in famiglia, piccola! Oh! Pensavo che mi avreste fatto qualcosa di terribile! No! Ti ameremo! Wow! Quindi non state scherzando! Sei felice? Wow! Questo era il mio sogno! Dobbiamo festeggiare! Chica è così creativa! Diventerai il nuovo Freddy! È tutto quello che ti serve! Sei pronta? Oh! Che nottata! Non resisterò senza il caffè! Davo controllare tutte le telecamere! Oh! Tutto libero! Oh! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Oh no! Sembra uno zombie! Non posso andare in giro con queste occhiaie! Sembra che non ci sia nessuno! Inizierò una segreta operazione di Beauty Hack! L'agente Bunny è pronto! È un bene che non ci sia nessuno in giro! Prima devo applicare il fondotinta! Fantastico! Non ci vedrai più! Con tutto questo caffè le mie labbra sono screpolate! Metterò un po' di burro cacao! Forse dovrei testare anche il fondotinta! No! No! Penso di essere a posto! Non è per caso Bunny Bunny! Non mi aspettavo di vederlo! Lucida labbra? Oh! Grazie! Altro? Oh! Questo è bello! Non sei Bunny! Non hai finito! Non hai finito! Oh! È vero! Oh! Freddy! Questo non ti servirà più! La mia trusse! Ehi! Ridammela! Ehi piccola! Ti ho portato una cosa! Wow! È il set di Gabby! Ora è tuo! Puoi provarlo? Vorrei davvero provarlo! Più di gli occhi sono certa che sarai bellissima! Aggiungiamo un po' di eyeliner! Sembri già molto più carina! Che bello! Non ho ancora finito! Ora il naso! Perfetto! Ancora qualche dettaglio sarà la mia piccola copia! Un po' di pazienza! Ecco! Guardati! Che bello! Vi piace il mio trucco? Io lo adoro! Anch'io tesoro! Il primo punto è stato completato! Non lascerò che le cose vadano così stupidi animatronics! Non sapete con chi avete a che fare! Lascia solo che ti prenda Freddy! Saluterai la tua testa! Ecco qua! Sono troppo emozionato! Mi devo calmare! Manca poco alla fine del turno! Oh! Finalmente! Basta con questa uniforme! Ne voglio solo il comfort! Che c'è di meglio che un caffè appena fatto? E ora giochiamo! È di nuovo lui! È meglio che lo spenga! Oh! Ho un'idea! Se avessi un intero arsenale, Freddy non mi farebbe paura! Sarebbe fantastico se fosse un albero! Ho bisogno di qualcosa di più serio! Oh sì! Ho trovato quello che cercavo! Ti conviene implorare pietà, Freddy! Sto venendo a prenderti! Ehi! Svegliati! Svegliati! Ragazzi! Come faccio a svegliare Freddy? Freddy darmi profondamente e non mi sente! Cosa? Ehi! Freddy! E se... Non vedo nulla! Dove sono? Ahah! Eccoti! Il gioco è finito, Freddy! Cos'è? Ora non potrai più scappare! Tu sei la prossima! Troom trick! Dove sono? Ragazzi, aiutatemi ad uscire da qui! Solo i vostri like potranno rimuovere questa barriera! Oh wow! Funziona! Devo scappare! Ehi! Non si paga? Che brutto momento! Dai! Un altro colpetto! Avanti! Mettete un like! Oh! Sei in ritardo, amico! Che devo fare adesso? Forse trovare il cappello? Chica, ma dov'è? Ci sono! Ecco, prendilo! Ehi! Levamelo! È troppo grande! Penso che dovresti crescerci dentro! Aspetta, sa cosa fare! Troom trick! Perché sei qui? Dov'è il fondo? C'è un intero magazzino! Ok! Ultimo tentativo! Sono incastrato! Aiuto! Il cappello mi sta risucchiando! Cos'è? Lasciami andare! Mi fai male! È qualcosa di pesante! Perché? Proprio io! Ho capito! Ma come? Lasciami andare! Morde! L'ho scampata per un pelo! Devo stare più attento! Si fanno strani incontri da queste parti! Che succede? Hai toccato il suo cappello! Non colpirmi! Che strano! Oh, è tutto a posto! Penso che tu abbia bisogno di un cappello, tesoro! Ci servirà del peltro! E trum trick! Queste forbici non sono un gran che! Ma i miei denti sono affilati! E ora arrotoliamo il peltro e fissiamolo con la pistola per la colla a caldo! Il cilindro è quasi pronto! Dobbiamo solo incollare i dettagli! Trum trick! Beh, che ne dici, piccola? Provalo! Grazie! Non c'è di che! Che ne pensate? Assomiglio già a Freddy! Questo cappello è perfetto! Possiamo cancellarlo dalla lista! Lò, 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 lò! Avrò l'uniforme più bella di tutte! Oh, sì! Ora tutti sapranno che sono un eroe! La migliore guardia giurata dell'anno! Ehi, me la presti! Allontanati da me! Ok, ora lasciami! Che stai facendo? Ecco qua! Non c'è bisogno di tutte queste mossette! Grazie per la macchina! Freddy ha rovinato la mia uniforme da eroe! Te ne pentirai! È proprio quello che ci serviva! Una macchina da cucire? Dove l'hai presa? Ora possiamo iniziare a fare il vestito! Bene! Volevo farlo io! Ho tutti i materiali necessari! Cucciamo l'imbottitura in poliestere e tessuto! Sembra perfetto! Penso che la bambina la adorerà! Ehi, vuoi provarlo? È bellissimo! Perfetto! Siediti! Io e te siamo come due pisellini in un baccello! Ti adoro! Ora ci servono solo i guanti! Ma dove possiamo trovarli? Oh! Ottimo materiale! Tanto Freddy dorme! Trum! Che stai facendo? Vattene! Ma io volevo aiutare la bambina! Altrimenti come avrei fatto a fare i guanti? Non usando i miei piedi! Non arrabbiarti! Ehi! Potrebbe funzionare! Cosa? Stai parlando del mio portachiavi? Certo! Devo stare attento! Possiamo iniziare il processo di trasformazione! Dammelo! Dovrebbe funzionare! Troom, troom, trick! Fantastico! È meglio di quanto immaginassi! Pronto? Evviva! Viva! Prendi qua! Sei così generoso! Grazie! Ma quello? Chica! Ma cosa hai fatto? Sistemerà tutto io! Un po' di pazienza! Forza! Ti senti meglio ora? Oh! Il mio corpo! Grazie! Che stai facendo? Oh! Abbiamo bisogno di te! Ti abbiamo fatto dei guanti! Wow! Ora ho le zampe! Perfezionerò la danza dei robot! Ma cosa sta ascoltando? Ehi, chica! Voglio sentire anch'io! Oh! Forse non dovresti freddi! Non hai delle cupie più grandi? Queste non mi stanno! Dovrà togliermi la testa! A proposito di orecchie, la bambina avrebbe bisogno di un paio di orecchie! Eliminiamo tutto ciò che non ci serve! Ritagliamo i funghi dal cartone e ora avvolgiamoli in un tessuto di peluche! Fantastico! Room trick! Le nostre orecchie sono pronte! Ritagliamo le orecchie più piccole dal tessuto scuro per creare volume! Useremo la colla e poi collegheremo le parti! Perfetto! E ora possiamo mettere tutto sul cerchietto! Room trick! Le adoro! Dove sono le mie cucchie? Come farò a sentire la musica ora? Fiche, no? Oh, piccola! Devi provarle! Wow! Wow! Ora sono un vero orso! Ora farò vedere a quella guardia che tutti devono aver paura di me, proprio come di Freddy! Batti il 5! È l'ora della rivincita, Gabrielle! Aspetta! Non pare niente di stupido! Ti ricordi chi comanda qui? Non ho bisogno del tuo aiuto! Non sei più la migliore guardia! Mi prenderò io il tuo titolo, è chiaro? E ora battene! Ok! Le guardie non assumono chiunque! E io ho bisogno di un nuovo partner! Questo bambino sembra a posto! È ora di chiamare i rimporsi! Pronto, Michael! Abbiamo bisogno di te! Ehi, novellino, entra! Ciao, sono pronta per il servizio! Ottime premesse! Ehi, cos'è questo suono? Controllo subito le telecamere! È strano! Ehi, che c'è che non va nelle telecamere? Fai boom boom! L'hai visto anche tu? È così spaventoso! Dobbiamo controllare! È terribile! Sigilla la camera subito! Ci è mancato poco! Fantastico! Ora tocca a te controllare! Cosa? Non ci andrò! Dai, il fretta! Bacci tu! Non è possibile! Che potrebbe succederti? Ok, non solo un codardo! Sono cieco! Spero vada tutto bene! Non fa paura! Aiuto! Resisti! Ti aiuterò! Non mollare! Grazie, collega! Chiudi la fuori! Ci è mancato poco! Mi hai quasi strappato la gamba! Ma tu sei arrivato in tempo! Scommetto che fa male! Lasciami curare la ferita! Ora va meglio! Sì, un po'! Queste ti serviranno! Grazie! Sono molto utili! Guarda allora! Abbiamo superato la prima notte! Ottimo lavoro! Segniamolo sul calendario! Voilà! Pronti! La prossima notte! Freddy, abbiamo un nuovo obiettivo! Vediamo quanto possono resistere questi ragazzi! Nessuno è mai sopravvissuto a tutte e cinque le notti! Non credo che siano speciali! Li aggiungeremo alla collezione! Sei serio? Sono pronta! Sembra deliziosa! Fermati! Questa non è per te! Ti stai cacciando nei guai! Perché sei così nervoso? Non farmi arrabbiare! La mia testa! Te ne pentirai, chica! Sembra che tu abbia dimenticato chi sono! Abbi pietà, Freddy! Rilassati! Abbiamo cose più importanti da fare! Chi è quel tizio? Non hanno idea che siamo qui! Fai attenzione! Questo è il posto giusto! Eccolo! Ti richiamo io! Cos'è questo rumore? Michael, sei tu? Chi c'è lì? Proprio negli occhi! Poi silenzio! Ci noteranno! Questo ti aiuterà! Provalo! Non è affatto d'aiuto! Smettila! Andiamocene da qui! Ehi! Spostati! Wow! Che occhiali fighi! Ora sono un vero bandito! Tutto libero! E anche qui! Vediamo nella sala! Oh no! Cosa? Michael, vieni qui! Freddy non ci lascerà in pace oggi! Gabby, girati! Sta rompendo tutte le telecamere! Che mascazzone! E adesso che facciamo? Dobbiamo prepararci alla notte! Ci sono! Mettiamo queste telecamere di riserva! Non guardare me! Io ho un problema alla gamba! E mi fa male il cuore! Che codardo! Ok, lo farò io! Fa male! Basta fingere bugiardo! Ha funzionato! Già! È proprio questo il partner che sognavo! Allora devo salire così in alto! Non ci arriverà mai! Anche saltare non serve a nulla! Grazie! Ora farò molto più in fretta! Perché Gabby è così spaventato? Ecco qua! Riesci a vedermi? Ciao, Gabby! Bel sound! È stato più facile di quanto pensassi! Cosa? Freddy, sei tu? Lasciami andare! Che succede? Michael, lasci da lì! Veloce! È molto vicino! Lasciami andare! Non mi sente! Michael, scappa! Non posso guardare tutto questo! Niente ci aiuterà! Oh, tempismo perfetto! Ora non è più il mio turno! E anche il secondo giorno è passato! Non manca molto! Grande! Cosa vuoi da me? Sei pronta, chica? Allora iniziamo! Cosa? Che sono queste borse? Tutte le borse che avevamo! È per questo che le cerco sempre! Ok, basta così! Ehi, lasciatemi andare! Nessuno sentirà i tuoi lamenti! Non importa quanto ti sforzi! Oh, oh! Sai cosa è successo alle guardie precedenti, vero? E lo stesso accadrà a te! Quali sono le tue ultime parole? Un altro! Non mi arrenderò! Oh, fa male! Peggio per te, amico! Ma cos'ha? La rabbia dei polli? Sei nei guai! Smettetela! Cosa? È mattina! Wow, sono sopravvissuto! È ora di andarsene da qui! Ehi, Gabi! Ci sei? Poverino! Non posso abbandonarlo! Controlliamo le telecamere! Oh, sembra tutto piuttosto tranquillo! Oh, cambiamo! No, questo no! Oh, sono tornati! Eccoli! Ne ho abbastanza! È ora di farla finita! Buonanotte, agenti! Oh! Oh, un'anteprima YouTube! Adoro Barbie! È la migliore! Chi abbiamo qui? Chissà se faranno vedere anche il film! Sono il fan numero uno! Oh, guarda, bambola! Sei tu! Oh! Non potrai scappare! Ti prego, non parlo! Aspetta un attimo! Pronto? Come va? Tutto bene? Cosa? Ma come osa? Io non disturbarmi a una telefonata in corso! Un appuntamento! Wow, che figata! Ti ha dato un anello! Basta, ne ho abbastanza! Sono qui da un'ora! Salutalo finché puoi! Ti amo anch'io! Oh! Allontanati da me! Oh, sto bruciando! Peccato! Ehi, non lasciarmi! Così il raggio della speranza è svanito! Fermati, non muoverti! Oh, siete entrambi qui! Non è giusto, ragazzi! Ho bisogno del vostro aiuto! I vostri like caricheranno la batteria! Per favore, aiuto! Allontanatevi da me, mostri! Oh! Mettila via! È caldo! Come ha fatto le mie piume! Grazie, ragazzi! Mi avete salvato! È stata una lunga notte, ma sono sopravvissuto! Oh, oh! Il primo tempo è finito! Possiamo rilassarci! Sì? Chi è? Una guardia! Potrebbe essere d'aiuto, devo chiamarla! Pronto, signor Huggy! Ho bisogno di una guardia! Oh! Il mio cuore si è quasi fermato! Mi proteggerai da lui? È questo, Freddy! Lo cerco da una vita! Wow! Che colpo! Lo stenderò in due secondi! Oh, oh, oh! Ehi, Huggy! Girati! Cosa? Eccoti qui! Non aver paura, Gabby! Eh? Perdente! Che farai adesso? Oh! Ha solo bisogno di un compagno di allenamento! E questo tu lo chiami un colpo! Il mio braccio è rotto! Smettila di urlare! La testa sta per esplodere! Ma non la mia! Tre punti! Sei un vero mostro! Ti prego! Non farmi del male! È troppo tardi, Gabrielle! Vattene! Ah! Per favore! Smettila! Huggy! Scusa! Taglia! Ma che stai facendo? Non vedo più niente! La mia faccia! È ora di andarsene! Stai calmo! Sì! Non c'è tempo di rilassarci! Potrebbe arrivare da un momento all'altro! Non spaventarmi così! Sì! Orribile! Per fortuna sono scappato! Di nuovo loro! Ci è mancato poco! Ho già avuto abbastanza sorprese! Per stasera ora basta! Farò finta di essere uno specchio! Dove è andato? Era qui! Ha funzionato! Che strano! Penso che si nasconda da qualche parte! Oh, che fortuna! Devo tenerli d'occhio! È meglio nascondersi qui! Che è questo tipo gustoso? Aiuto! Questa volta non potrai scappare! Ti prenderò! Non esiste! Addio, chica! Che vogliono tutti da me! Amber! Darei qualsiasi cosa per provarti! Signora, ha bisogno di aiuto! Mio figlio è scomparsa! Forse l'ha vista! Mi dispiace! È così triste! Eccoti! Allontanati! Per favore aiutami! L'importante è non portarci ma... Non posso lasciarla nei guai! Cos'è? Ho un'idea! Ehi, chica! Questa è per te! Davvero? Wow, figo! Questo è per te! Eh, grazie! Ne avrà bisogno! Andiamo! Ora non ci disturberanno più! Ma dov'è Gabby? Questo è il terzo turno! Aspetta un attimo, eh! Oh, giusto in tempo! Sì, che farà, chica citta! Oh, no! Non aver paura! Farò in fretta! Basta! Non scapperò più! È ora di combattere! Oh, proprio sul ginocchio! Questa era la mia mossa preferita! Credo che queste ti serviranno! Grazie! Buona fortuna! Ciao! Mi hanno incarnata di nuovo! È ora di provare la pozione che mi hanno regalato! Ehi! Che ci fai tu qui? Oh, stai pranzando! Allora mi unisco! Oh, pollo! Sei un vero mostro! Oh! Non ti perdonerò mai per questo! Mi ero dimenticato che sei un pollo! Vattene o tu sarai la prossima! Ehi, calmati! Non dirmi cosa devo fare! O chiamo KFC! Ah, che fastidio! Mi ha rovinato l'appetito! Oh, no! È ancora Freddy? Ehi! Ciao, Gabby! Dove sei stato? Michael, sono felice di vederti! Sei stato via tutta la notte! Finalmente è mattina! Possiamo cancellare un altro giorno! Ora tocca a te! Grazie per la fiducia! Davvero ci rimane solo una notte? Ehi, Freddy! Non ce la faccio più! Non mi disturbare! Sono esausto anch'io! Ho bisogno di riposare! Cosa? Non c'è tempo per riposare! Dobbiamo prepararci all'ultima notte! Non vuoi che falliamo, vero? Ma che ci credono di essere queste guardie? Con questo nuovo aggiornamento non ci permeranno! Ti è piaciuto il nuovo video? Allora metti un like, iscriviti e clicca sulla campanella! Alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.